Scorzè. Prima lo invita a casa, poi minaccia di mandare alla moglie le sue foto in atteggiamenti intimi, ricattandolo. I carabinieri hanno arrestato una donna di 54 anni che aveva messo in atto ai danni di un uomo del posto una vera e propria estorsione. Durante l'incontro l'uomo, un 67enne, non si era accorto di essere stato immortalato. A una prima richiesta di denaro, 120 euro, ne è seguita un'altra più sostanziosa e allora la vittima si è rivolta ai militari dell'arma che hanno incastrato la donna mentre stava ricevendo i soldi. Ora è ai domiciliari con l'accusa di estorsione. Venezia. Un corteo di protesta fino a Piazzale Roma. È andato in scena nel primo pomeriggio nella giornata dell'Assemblea dei Comunali. Dopo la rottura delle trattative sul contratto decentrato, i lavoratori si sono ritrovati in sala San Leonardo con sindacati RSU per decidere quali contromisure attuare per protestare contro la mancata approvazione del contratto decentrato, ma hanno voluto far sentire la propria voce con maggior vigore, sfidando per le strade con bandiere e striscioni. Non si sono fermati davanti a nulla, neppure di fronte alla corsa del tram, invadendo l'intera serie stradale e bloccando nella corsa. Codevigo. Un volo impressionante con l'auto giù dalla banchina esterna dell'argine del fiume Brenta. Brutto incidente domenica lungo la strada provinciale 53 Arzeron per una coppia di Campolongo Maggiore. Marito e moglie, entrambi trentenni, arrivavano da corte di piove di sacco. All'altezza della frazione di Rosara, la loro auto, che viaggiava a velocità sostenuta, è improvvisamente uscita di strada, volando nel vuoto fino a terminare la propria corsa alla base dell'argine esterno del Brenta. I coniugi sono stati trasportati in elicotteri in ospedale, sono in gravi condizioni. Jesolo. Si è tuffato in acqua, vedendo il figlio dodicenne in difficoltà tra le onde, ma un quarantenne ha rischiato così di morire. Una volta arrivato vicino al ragazzino, stremato, ha perso i sensi ed è stato sommerso dall'acqua. Immediato l'intervento dei bagnini della Jesolo Turismo, che con la moto d'acqua hanno recuperato il dodicenne e lo sfortunato genitore, il papà è stato rianimato sul posto e poco dopo ha ripreso conoscenza. L'incidente a Jesolo Pineta davanti al grattacielo coperto di vetro specchiato.